isaac sei lì hai ragione lì c'è una fantastica sono fortunato per stare sentizio a bordo mi hai spinta a insistere mi hai spinta a insistere mi hai spinta a insistere mi hai ucciso e addirittura dai isaac sveglia basta dormire dobbiamo continuare i video andrà tutto bene una promessa non ti farà niente non pure che possa crepare un ago nell'occhio ti voglio infilare un ago nell'occhio minchia mamma mia capitolo 11 e i i i Il supervisore di servizio è Don Riving Qualcuno altro che mi ha rotto il culo, meno male Ah, ora mi ammazzo subito, ora che ho punizioni impulsi al massimo Fucile impulsi, non punizioni Però strano, soltanto tre E infatti Questi basso neri c'ha due tecno che sono due siamesi Adesso combattiamo contro i siamesi Sì, siamesi ha due, i siamesi missionesi che sono anche incattati neri E' rimasto uno, eccolo lì Ehm, non potrete mai battermi brutte merde Potenza delle DC sta più ingegnere, eh C'è una mazza Senza offesa, eh, mazza Si sta guardando questo video, intendo Ti vedo Perché l'hai fatto, Strauss? Non posso affrontarlo, pensavo che Ellie ne fosse capace Dovevo aprirle gli occhi, la fase tre Cosa non puoi affrontare? Qual è l'ultima fase? Lei? Ecco di cosa avevano paura Che io l'affrontassi, che distruggessi il marchio Tu fai troppo per me, devi aiutarmi Devi vedere, la fase tre Strauss! Dannazione Ah, volevi aprirle gli occhi Cioè, se mai le hai chiuso un occhio Eh, no Madaglia Cazzo, ai sacca ancora Cazzo, ai sacca ancora Ancora, ai dissoni Trenatore Ma c'è nessuno Ma c'è nessuno Cazzo Ma c'è nessuno Claudio Ma c'è nessuno La scuola E' nessuno Cazzo Grazie Per Trig ho finalmente un negozio allora per tutti i inventari spostiamo poi questi chismetici poi vediamo qui stiamo qua che non mi sia detto del... le musiche le sto finendo che nodo ok possiamo andare no no lo salvo no anche questo qua che fa la rampicata l'ho colpito proprio in quel vento chi è? sarebbe piaciuto eh ecco lì la porta nooo ma dai che volta che ti voli da sotto vado così piano No? E' la cosa che mi ricomandola sia fatta. E' la cosa che è? Che è? E' la cosa che è un bambino e adesso non ho trovato. Che figli questa bomba? no no vieni qua abbiamo ancora più adesso mi metto vieni qua ecco allora ecco lo sapevo devo trovare una tancione anche caccola lì ormai sia l'ulta intanto le trovo qua dentro queste scatole a posto adesso le c'è in gente che sono dentro caccola l'ultima Oh, adesso si vede meglio Oh, ormai non ce la fare Porco cane, due volte Ancora Eh, come nel settimo capitolo, anche qua nell'undicesimo E quindi dove volte la condivide di me Buon mamma Scappa Isaac Questo è il sistema No, lasciami, lasciami, lasciami Adesso via, 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 via Vabbè, po' salvo Vabbè, alla prossima Grazie a tutti